Esatto, eccoci Bene, partenza con cambio di impugnatura E questa se concedetemi in termine Occhetta avanti in verticale Giro dominale avanti in verticale E poi Schapo a salire Capovolta, Piantata Kaciov Maria Ceplinski Pac C'è un piccolo dettaglio Che un po' mi mette in ansia Perde un po' i piedi Ha i piedi sempre a martello E non sempre ben distesi E questo la giuria lo noterà parecchio Un doppio carpio d'uscita Un po' troppo aperto a livello di carpiatura Però